L'intervento degli elegantoni è di prammatica in bovoli a Firenze dove ha luogo il concorso di eleganza per auto. Sfilano in passerella le bellissime e dall'interno occhieggiano le troppo belle. Invece della ruota di scorta la Citroen DS19 ha la ragazza di scorta. I costruttori della Volkswagen chiamano questa versione 1200 normale, un tipo comune dicono, la macchina si intende. A guardarla bene però non ci sembra affatto comune, la ragazza si capisce, anche perché non si accontenta della 1200 ma vuole anche la nuova 1500 berlina. Ecco un tipo spinto, non l'indossatrice, l'auto. Ecco invece la più elegante alludiamo alla toilette, l'avrete già capito. Se avete deciso di trascorrere le vacanze in Grecia vi consigliamo una compagna di viaggio come questa, in quanto alla macchina va bene anche un'utilitaria, se lei ci sta naturalmente, il che ci sembra molto difficile, comunque tentar non nuoce. Nelle gite in campagna quest'anno si portano molto le ragazze così, si portano in campagna perché a portarle in città si rischia di fare continuamente a pugni con quelli che le prendono in giro.